buongiorno a tutti sono diego marutti fisioterapista osteopata in questo corso approfondiremo una sindrome la sindrome dello stretto toracico sicuramente molto interessante dal punto di vista riabilitativo e molto complessa come valutazione diagnostica approfondiremo i test la terapia manuale i standard terapeutici di questa sindrome semplicemente chiedo al paziente di abdurre extra rotare portare a 90 gradi in abduzione extra rotazione e di tenendo il moncone della spalla in posizione neutra aprire chiudere le mani fa questo lavoro per 90 secondi grazie grazie grazie